Salve a tutti, come vede, se tornai a registrare in studio, perché ancora piove, il Fabietto ha paura che vaga le gozze solo all'obiettivo della telecamera. In questi giorni, sul giornale Trentino, Matteo Casole scrive che arco e riva gli stadi retrocessi nella classifica dei borghi felici. Il sondaggio le sta a fare solo 24 ore da parte del centro studi sintesi. Veniva a tenere conto per la valutazione, la vita materiale, l'istruzione, la cultura, rapporti sociali, la sicurezza, attività personali, la salute, la partecipazione attiva alla politica. Come Telegarda abbiamo fatto anche un'indagine per vedere se i dati erano giusti e se eventualmente abbiamo tenuto conto delle migliorie che sta a fare negli ultimi periodi. Ecco, la nostra valutazione ne nasce alcuni dubbi sul risultato da parte dell'inchiesta fatta da Studio Sintesi. Per la partecipazione alla politica nella Busa, siamo avanti. Arco Gavèm, un assessor con dei voti, avevamo mandato a riva un demassone a fare il vice sindaco. L'onorevole Ottobre, il Maureto, l'avevamo messo alla commissione della difesa, così stiamo tranquilli sulle eventuali invasioni barbariche. Per il turismo, problemi zero, Arco, gavèm date man tutta a Renatino Veronesi e chi, secondo me, investi che tirano via punti dove dannano nemmeno sentinare in deput. Per la sicurezza siamo a posto e sta cambiando il comandante di Vigil perché l'era massabom. A quel nof che vinierà, i sindaci della Busa, i sessi messi d'accordo, parchi che compra tre carri armati e un par di elicotteri a pass. Per i rapporti sociali, anche a chi? Non c'è nessun problema. Il nostro sindaco Betta le dice sui giornali con due o tre foto, una volta con il comandante dei pompieri, una volta per la tira fuori i soldi alle poste di Bologna. Dopo, il che continua a rispondere su Facebook a tutti quanti, qui che domanda qualcosa, l'unico problema è il suo collega Mosander, le migliori mendrio su queste cose qua, però tra i lunghi problemi grossi, insieme al Carlo Modena, che è l'edrio che deve chiudere l'ultimo talk del Viale Rovereto. Per la cultura, noi ne siamo buttati avanti grazie anche a Lunelli, Arco, e l'inglese, e l'omagna come il PAM, no? Bow Beach, Street First, Jet on the Cliff, l'unica parola che resta da cambiare, probabilmente vediamo adesso come fare, l'esodo alla pina, tutte le resta in tua roba inglese. Per quel che riguarda sempre nella cultura, i teatri vengono su come i fondi, e il nostro, le resta, le ancora migliori mendrio, ma stai tranquilli che vengono su. E il centro giovani, cosa vuole, la venza inaugurata 6-7 volte, le ancora si era su, perché pare che non si è a tanto accordo sul colore che ha danno i bagni. In San Tendrio, però, i rivani, Poreti, i lavori, e a dover farlo, causa la chiusura della spiaggia degli Olivi. Non ti puoi andare a ballare da nessuna banda, se non a qualche beach party. Pensa che domenica ero su al Ponte dei Strachi, e lo signore, un po' anzianotele, mi pareva, tedesco, mi ha domandato, bitte, bitte, boh danzen? Mi, io, e sta signora mi, io, Miss Rosengarten nel 1952, lo guardava, mi pareva che aveva 110 anni, danzen auk ballo delle sartine al Marte di Gras, posti, dico, signore, non sava ria domandarle, perché cosa vuole, il Taraschia l'aghe la sera su, al Monte Baldo, noi, ad avere un ufficio dei Ponte dei Furni, la Cappanina non l'aghe più, guardiamo, a questo punto qui, aver tirato un po' dei punti, quelli che fanno l'analisi del Sintesi. Le vera, ad esempio, dove c'è l'articolo, che dice che, ad esempio, Brunico, Vipiteno e Enya, gli è più avanti di noi. Ma chi, dove scusarne anche, loro le processioni le fanno con i suzzi, con i veri suzzi, noi le processioni le fanno con il Nimen da Varignam e con il Taraschia, quindi lì punti tra i perditi sicuri. Invece, anche nei comuni, sono fanno l'articolo, i sedi verti, i deput, e tutte queste cose, che li vissi in guarda l'anca. Però, capi bene, questi però non puoi mangiare le anguille che mangiamo noi, tutte su nella sciarca, perché le sue, le piene di diossina, e anche a questo punto qua, io avrei dovuto, quando io faccio tutta l'analisi, tenerne conto. Allora, adesso concludiamo, perché sennò diventa massa lunga, finché ne siamo divertiti a tenere in considerazione le analisi, come ha fatto il Matteo Cassol, leggendo l'Istituto di Ricerca e Sintesi. Ma, una domanda, mi e voi che abitiamo nella Busa, avete mai tenuto conto di queste richieste qui? O meglio ancora, ne siete mai accorti che è in giro che fa tutte queste cose qui? Tutti i turisti che vengono in zona, secondo voi, l'eserle solo le 24 ore, per vedere, come dire la valutazione, di indicatori capaci di misurare i benessi della città, o prima di partire, guardare il metro trentino per vedere se è bel tempo. Ieri ho parlato con il dottor Frendolo, e mi dice che lei donò che non dorme a pensare che Arcol è passata dall'ottantesimo posto al 108. Anche arriva, mi ha telefonato a Daniela, che non la mangia da una settimana, e arriva, mi ha passato dal sessantesimo al 100, e la guerra è stata proprio male, male, male. Allora, come telegarda, noi auguriamo a Arco e a Riva che l'anno prossimo, per la prossima inchiesta, che sia un miglioramento della classifica. E ne fanno una promessa, anche per guadagnare un po' di punti. Ad esempio, ad Arco non butteremo più per terra le scorse di Anguria quando gli fa la festa di Sant'Anna. E invece, qui deriva, mi ha promesso, qui della bacionella, che gli ordinerà la bondola senza la pelle. Allora, aspettando un netto miglioramento nella classifica del sole 24 ore, vi saluto, alla prossima. Saluto. 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 Grazie a tutti.